let's go bitch sono power sono qui per avvisarvi di un appuntamento importantissimo di oggi dalle 7 alle 9 e mezza streamerò sul canale di liquid che vedete qui sotto streamerò cosa bene la beta di black ops 3 sarà in compagnia di rampage in the box dei giocatori dei liquid delle liquid gaming le ragazze di liquid gaming alle 9 e mezza ci sarà uno show match assieme gli one assieme a melagoda assieme bastard un sacco di grandi personalità qui per giocare a black ops 3 alla beta di black ops 3 fino alle 9 e mezza streamerò sul canale di liquid poi mi sposterò sul mio canale power tv su twitch che vedete sempre qui sotto link quindi vi invito ragazzi a rimanere sintonizzati alle 7 tutti pronti in fibrillazione sul canale di liquid ci saranno dei giveaway cercherò di parlare con voi di spiegarvi il gioco di farvi capire cosa usare cosa è meglio come funziona eccetera eccetera perché ve lo posso dire ragazzi è proprio diverso questo quindi vi saluto spero vi sia piaciuto questo breve commenta di spero di vedervi in tanti facciamo vedere i liquid quanti siamo facciamo vedere tutti noi power tutti noi quanti siamo in streaming e quello che possiamo fare io vi saluto spero vi sia piaciuto questo video spero sarete veramente in tantissimi quindi vi saluto la 8 9 Grazie a tutti.